Salve a tutti, sono Slance, in questo video vi farò vedere come ottenere i Rubux gratis. La prima cosa che tengo a farvi sapere è che questo è uno dei pochi, se non l'unico modo, che vi potrà far avere Rubux in modo completamente gratuito, in modo veloce e soprattutto sicuro per il vostro account. Infatti, se cercate su YouTube, ci sono molti altri metodi che vi mostrano come avere i Rubux gratis, ma questi metodi o sono lenti, o potrebbero bannare, o potrebbero far venire hackerato il vostro account a causa di come sono fatti, oppure potrebbero semplicemente essere non funzionanti. Mentre questo è uno dei pochi modi funzionanti e che appunto, come ho detto prima, vi farà arrivare il Rubux gratis in poco tempo. Questo metodo consiste nel fare un account Microsoft. Facendovi un account Microsoft avete accesso a Microsoft Rewards, un programma a premi che cliccando semplicemente su delle piccole icone e cercando su internet con Bing, vi farà avere dei punti. Questi punti potranno poi essere spesi per dei buoni regali da Microsoft, che vi permetteranno appunto di avere i Rubux gratis. Ora vi spiegherò come averli. Quindi, una volta che fate l'account, vedete queste sfide, o comunque sfide, non sono davvero sfide, visto che basta che cliccate su questo piccolo, su questo tasto, senza piccolo, e una volta che si carica la pagina, cosa che purtroppo è molto lenta, non ha causato la connessione, ma Bing di per sé è davvero molto lento, come potete vedere qui appare la schermata premi. Come potete vedere, ora ho guadagnato un pochino più di punti rispetto a quelli che avevo prima. Questo perché, una volta cliccato, mi sono stati dati i punti. Ora, tornando alla pagina di prima, qui, non so perché, ecco appunto, è apparso il simbolino che mi ha detto che la mia missione è stata completata. Infatti, ho ricevuto 10 punti in più. Voi farete così ogni giorno, e ho calcolato che se fate tutte le missioni fattibili, il minimo che potete guadagnare ogni mese saranno 450 Robux, che non sono male, per essere gratis, che corrispondono quindi a 5€ di Robux. Ora, come si guadagna i Robux? Una volta che avrete abbastanza punti, andate giù e andate qui su Buono Regalo di Microsoft da 10€. In questo caso io l'ho da 10€, ma ora per far vedere che funziona, lo comprerò insieme a voi, vi farò vedere che funziona, appunto. Ora acquisterò quello da 5€, perché non ho abbastanza punti per quello da 10€, e insieme vi farò vedere, appunto, come ho già detto, che funziona. Ora riscatterò il premio, e essendo a livello 2, che si prende semplicemente facendo un po' di punti, quando dovete riscattare anche voi avete sicuramente il livello 2, ho un piccolo sconto. Ora riscattiamo il premio, e, una volta confermato, una volta confermato il premio, ecco, vi verrà dato un codice che vi verrà dato presto. Ora, una volta che mi arriverà il codice, vi spiegherò come avere i Robux. Come potete vedere, ragazzi, mi sono arrivati i miei 5€ che avevo chiesto, e ora vi farò vedere come potremo spenderli su Roblox. Una cosa che mi sono scordato di dirvi, è che per guadagnare i vostri Robux, dovete, purtroppo, disporre di un PC che abbia al suo interno Windows 10, altrimenti non potrete, appunto, avere i Robux. Potrete, comunque, guadagnare i vostri punti e riscattare la vostra gift card da 5€, 10€, o quel che sia, però non potete spenderli. Quindi, voi potete, intanto, guadagnare i punti. Puoi, magari, andare a caso di un amico, oppure di un... oppure, comunque, usare il PC dei vostri genitori o qualsiasi cosa, per, appunto, spendere i vostri punti e ottenere i Robux gratis. Ora vi spiegherò anche perché avete bisogno, in particolare, di Windows 10. Il motivo per cui avete bisogno di Windows 10, per avere i Robux gratis, ma non per guadagnare i punti, è perché dovrete scaricare Roblox dal Microsoft Store, che è disponibile, appunto, solamente per PC dotati di Windows 10. Una volta che avete aperto il Microsoft Store, troverete subito Roblox davanti, scaricatelo, cosa che io ho già fatto, e da lì, e da adesso, vi spiegherò come, appunto, riscattare i vostri Robux. Una volta che avete scaricato Roblox per Windows 10, tutto ciò che dovete fare è loggarvi sul vostro account, e andare qui dove c'è scritto Premium, sempre quando avete i soldi. Ora, per dimostrarvi che l'acquisizione dei Robux avverrà veramente, vi faccio vedere che, ora come ora, ho 10.717 Robux, e non dispongo di Roblox Premium. Ora, quindi, vi farò vedere che lo comprerò. Quindi vedrete che i miei Robux saranno aumentati. Ora, sto acquistando Robux Premium, e vi farò vedere, appunto, quando la transazione sarà avvenuta, che avrò guadagnato i miei Robux. Come potete vedere, ora che ho completato la transazione, dispongo di Roblox Premium, e ho 450 Robux in più. Infatti, ora ne ho 11.167. Due cose importanti che devo dirvi, è che, la prima volta che acquisterete Roblox Premium, o comunque qualsiasi cosa, dal Microsoft Store, vi chiederà il vostro numero di telefono, e il vostro indirizzo di casa. Se non avete un numero di telefono, potete usare quello di vostri genitori, ma deve essere un numero di telefono reale, perché sarà richiesto una verifica. Mentre l'indirizzo di casa, potete mettere un indirizzo di un ristorante, di un hotel, di qualsiasi cosa, purché sia in Italia. Non deve essere per forza davvero del vostro indirizzo di casa reale. Detto questo, ora vi mostrerò che, appunto, non ho speso davvero i miei soldi, ma bensì quelli che Microsoft mi ha dato, facendo questi piccoli lavoretti. Come potete appunto vedere, i soldi che ora ho, sono solamente 2 centesimi. Questo significa che i 5 euro che ho guadagnato, se ne sono appunto andati, e sono andati appunto nell'acquisto del Roblox Premium. A questo punto, vi ringrazio per aver guardato questo video, mi invito a iscriverli, a lasciare like, perché arriveranno molti nuovi episodi, sia di giochi di Roblox, sia di video come questi, su metodi di fare cose, su Roblox, della quale non molte persone sanno. E se avete qualche domanda, scrivetela semplicemente nei commenti, risponderò a tutti, e in descrizione vi lascio il link, del sito di Microsoft Rewards, in modo che anche voi potrete cominciare a guadagnare senza alcun tipo di problema. Ciao ragazzi!